Il Green Pass continua a dividere, c'è chi lo ritiene giusto anche nei luoghi di lavoro e chi invece sostiene sia discriminatorio. Una versione, quest'ultima, condivisa da Andrea Bizzocchi, fanese di 52 anni, autore di 15 libri e ricercatore di tematiche legate all'informazione libera, e in particolare alla manipolazione e alle operazioni di ingegneria sociale, che hanno l'intento di creare, secondo lui, un nuovo ordine mondiale. Questo obbligo è certamente una forma di ricatto per indurre alla vaccinazione, ma questa è solo una prima parte e non voglio dire che non sia importante, ma forse quasi in un certo senso tutto sommato secondaria. C'è una forma di discriminazione che peraltro è vietata sia dalla Libera 253 del 2021 del regolamento europeo, che dice che le persone che non sono vaccinate non devono essere discriminate. Mi si può ribattere che uno non è discriminato perché se si va a fare i tamponi, però capiamo bene che è una forma di ricatto, nonché di obbligo, tecnicamente si chiama obbligo indiretto, perché uno deve andare a farsi i tamponi ogni due giorni, paga 15 euro ogni volta, perdita di tempo, stress, tensione, tutto quello che vogliamo. Andrea poi ha spiegato anche le altre finalità del lascia passare in posto dal governo, che ha dichiarato aprono scenari inquietanti. Secondo lo scrittore, nel codice a barre bidimensionale legato alla carta verde, andranno ad unirsi la patente, la tessera sanitaria, il passaporto, il conto corrente e non solo. Questo QR code nel quale andrà a confluire tutta la nostra, di fatto la nostra persona, verrà poi applicato ad un sistema di credito sociale sullo stampo di quello cinese già esistente, quindi queste non sono le fantasie né mie né di tanti altri come me che fanno opera di ricerca e poi di divulgazione. Per chi non lo sapesse, il sistema di credito sociale ti dice che se tu passi con il rosso io ti tolgo 20 punti dal QR code e postarci ed è giusto, fai un'altra cosa che non va bene, ti tolgo altri punti e va bene, critichi o perlomeno metti in dubbio, non lo so, la narrativa ufficiale dominante del governo eccetera, ti tolgo 500 punti e così via, quindi c'è un sistema di punti, mentre se ti attieni alle direttive io ti do dei punti. Tutto questo, ha proseguito Bizzocchi, servirà per un controllo totale e poi, ha ribadito, questi sistemi nel mondo esistono già. Nel momento in cui il QR legato alla tua persona viene bloccato perché sei andato sotto con il punteggio, ti possono bloccare il conto in banca, ti possono impedire di andare al supermercato, di fare viaggi, di qualunque cosa. La vendono come tutto e come sempre, come una cosa quasi di libertà, mentre io ci vedo una schiavizzazione totale dell'essere umano purtroppo. E dunque quale società ci aspetta? Mi viene da dire che è una società di controllo tecnocratico, ormai attraverso gli strumenti tecnologici è possibile controllare assolutamente tutto e quindi voi capite che i margini di manovra, ma per vivere liberamente, non per fare chissà che, verranno terribilmente ridotti. E' una società che io definirei disumana e controomana. E c'è un messaggio che vuole lanciare i nostri telespettatori? Sì, beh, il messaggio è di mantenere sempre comunque la conoscenza, secondo me è fondamentale, perché è il primo passo e poi ci vuole anche un po' di azione. La cosa fondamentale è che la gente si unisca, si riunisca, ricreiamo relazioni tra di noi. Noi dobbiamo cercare di capire che la guerra è sempre tra poveri, quindi non dobbiamo fare la guerra al no-vax o al pro-vax, eccetera, ma tra di noi, anche se abbiamo opinioni differenti e questo va benissimo e ci sta, dobbiamo cercare di appunto trovare forme di contatto, di relazione tra di noi per costruire, io credo, un mondo parallelo in tanti ambiti, che può essere quello medico, può essere quello educativo scolastico, può essere quello lavorativo e così via. Poi ognuno è giusto che si crei la propria opinione in qualunque ambito, in qualunque aspetto, però è giusto dare voce a tutte le voci ancorché discordanti, è l'unico modo in cui un cittadino può farsi una propria opinione.